Il Riano Athletic Center fa da palcoscenico alla sfida fra Roma City e Vigor Senigallia distanti geograficamente ma tanto vicine in classifica separate da un solo punto all'alba di un match che può essere il vero spartiacque di questo finale di stagione per la corsa ai playoff Allora amici di Fanner un saluto da Lorenzo Argese tra poco sarà Roma City contro Vigor Senigallia C'è, sguarda in avanti e decide di andare a servire Di Renzo che fa la sponda verso il compagno Di Renzo ritrova il pallone pensa alla conclusione, la fa partire Di Renzo non crea assolutamente problemi lo scontro diretto Battistoni lascia lì a Capece che va lì vicino a Di Renzo che carica la conclusione, la fa partire non lontano dal pallone alla destra di Roberto Roberto attende il movimento dei suoi alla fine rilancia lungo dalle parti di Dennis Pesaresi pallone che scorre, attenzione con il possesso per la Vigor Senigallia in area di rigore, non c'è nulla Davide Ballello ha messo in porta e la Vigor Senigallia è in vantaggio ci sono delle proteste da parte di Daniele Trasciani e di tutta la difesa del Roma City sembrava in un primo momento dovesse fischiare decide di tornare nuovamente la scogna miglio corridoio adesso per Cabella che va al lancio a sinistra verso Di Renzo che mette giù, menera non perfetta ma comunque efficace, cerca di saltare Schaeffer cross al centro, colpo di testa fil di palo era sbucato da nulla Cabella C'è Capece che prende la rincorsa va Capece con deviazione rischiosissimo pallone sopra la traversa interessato e può guadagnare dei metri palla al piede andando poi per vie centrali per Capezzani supera la vita a campo Capezzani inseguito da Capece si sta muovendo anche Chiriota Capezzani occhio al servizio al centro per Ballello Ballello carica il destro lo fa partire anche qui pericolosissima la vigor pallone fuori la destra di Rimbu Schaeffer con le mani del classe 2004 Romizzi riceve attenzione un po' di spazio ancora Romizzi conclusione Rimbu deviazione deve allontanare poi scogna miglio Schaeffer ante a destra il rione va da Capece sempre raddoppiato buona la verticale per Sparacello Sparacello si libera del difensore apre bene nella zona di Ferrante anticipato poi dallo stesso Cabella Cabella va al cross con il sinistro colpo di testa prolungare sul secondo palo si allunga Diniz al centro arriva Schaeffer in copertura ma c'era fuori gioco esce bene qui dalla zona di pressing la Vigo Senigallia con Paldini sterzata poi di Schaeffer che punta il fondo Schaeffer va al cross in mezzo con Capezzani conclusione con deviazione di Rimbu altro brivido per la porta di Roma City Ingretolli insiste Trasciani che sterzava sul sinistro ancora Trasciani sarà poi il compagno al cross sul secondo Ingretolli colpo di testa cosa ha preso Roberto sulla linea di porta Scognamiglio lascia fare a Cabella che va morbido il pallone scende di Renzo prolunga forse chiedono un tocco di mano non c'è nulla neanche qui illude il pressing di Ballello ancora Bonello che si è rialzato Scognamiglio ritrova il pallone Scognamiglio può calciare Scognamiglio che gol pazzesco Scognamiglio la pareccia così in Roma City colpito al volto anzi alla testa ma il recupero è scaduto è un punto a testa fra Roma City e Vigor Senigali alla squadra problema di casa la riagguanta all'ultimo con Mattias Scognamiglio grazie a tutti